Bene, allora posizionano anche loro la macchina di fianco al podio per dare la possibilità ai primi classificati di salire sul podio. Tutto pronto, come vedete stanno sistemando le autovetture a favore dei fotografi, nutritissima quest'anno la famiglia di media provenienti da oltre dieci nazioni, perché erano dieci le nazioni rappresentate, pensate quanto è stato quest'anno l'interesse nei confronti del rally di Sanremo, cosa da quale andiamo particolarmente.